in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini, Figline Valdarno Bentrovati, sono in mezzo ai libri e quindi inizia una nuova puntata di Word, il gusto della parola siamo ovviamente alla Libreria La Parola Figline Valdarno e con me ovviamente come sempre ci sono Giacomo ed Emma per quanto riguarda questo rapporto questa alternanza scuola lavoro con l'Istituto Giovanni da San Giovanni con l'Iceo Linguistico Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e poi nel saluttino troveremo sia Beatrice che Samuele che ci racconteranno i libri che hanno letto questa volta iniziamo con il solito con i miei racconti perché io di recensioni non parlo mai ma vi racconto quello che ho letto quello che i ragazzi della Libreria La Parola mi hanno consigliato di leggere e voglio iniziare così prima ancora di dirvi che cos'è sono nata il 21 a primavera ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenare tempesta e penso l'abbiate riconosciuta perché sono è una frase di una fra le poesie più conosciute di Alda Merini ma non parliamo di un libro di poesie di Alda Merini bensì parliamo proprio di Alda Merini grazie a sua figlia, alla sua figlia maggiore Emanuela Carniti Alda Merini, mia madre a chi dedico questo libro chi è che dovrebbe leggere questo libro chiunque abbia amato Alda Merini come poetessa perché in questo libro troviamo tutto di lei ovviamente chi meglio della figlia la conosce ci parla di un'Alda ragazzina ci parla di un'Alda adolescente ci parla di un'Alda moglie e madre ci racconta tutta la vita di Alda fino alla morte inclusi i periodi più bui i periodi più drammatici di Alda che sono quelli ovviamente dell'internamento nel manicomio è un'Alda nuova quella che ci appare perché racconta veramente tutto dalle prime fasi quando ancora ragazza frequentava i salotti letterali ai primi libri che ha pubblicato accolti subito da un grande successo per passare poi invece in un periodo più buio dove nessuno voleva più parlare di lei nessuno voleva più stampare i suoi libri periodo legato anche all'internamento in manicomio per ritornare poi ai fasti in cui tutti noi l'abbiamo conosciuta grazie soprattutto alla sua presenza in alcune trasmissioni di Maurizio Costanzo nel suo famoso Maurizio Costanzo Show che ci ha permesso di farci innamorare o perlomeno farci conoscere questa donna così particolare, così diversa anche nella sua vena di follia questo è un libro da leggere se abbiamo amato Alda Merini o è da leggere se vogliamo conoscere Alda Merini, la donna e non la poetessa ovviamente questo grazie alla sua figlia Emanuela Carniti Alda Merini, mia madre è edito da Manni e il costo è di 16 euro detto questo che cosa facciamo? ci trasferiamo andiamo nella zona dedicata all'ospite e quest'oggi un giallista con noi come preannunciato sono nell'angolo dell'autore e sono con non so più come chiamarti Oscar Montani Oscar Montani con il nome d'arte tu hai due filoni diciamo quattro filoni c'è quello storico che ho in mano adesso poi c'è quello attuale quello attuale poi ce n'è uno ventennio fascista e poi ce n'è uno del fine Settecento inizio Ottocento occupazione Napoleone atemporanea della Toscana ecco Oscar è un giallista e come fai a tenere a mente tutti i protagonisti di tutti questi filoni? questa è una buona domanda confesso che siccome ovviamente riprendo in mano il protagonista dopo tre o quattro anni la prima cosa e mi rileggo l'ultimo libro perché mi sono dimenticato che ha fatto perché nonostante tu sia il babbo nonostante sia il babbo ma anche il babbo dei figlioli che fanno se ne dimentica quindi a maggior ragione essendo figlioli di carta mi devo rileggere l'ultimo romanzo allora Oscar parliamo di questo abbiamo due puntate da stare insieme e iniziamo con questo iniziamo con Magica Tempora quello che si può raccontare perché ovviamente essendo un giallo bisogna mantenere comunque un minimo di sospanze allora innanzitutto io li chiamo gialli pergamena perché si svolgono nel rinascimento inizio del rinascimento fine 1400 il primo della serie si chiama Malatempora e inizia nel 1493 diciamo l'anno dopo la scoperta dell'America la riconquista della Spagna da parte della Castiglia e la morte di Lorenzo il magnifico che ovviamente in Toscana è la cosa più importante il protagonista che è un fabbro ferraio che ha bottega a Montevarchi nella zona lì dove ora ci sono le stanze Olivieri lì davanti il palazzo lì davanti è costretto dopo aver rivelato il mistero di alcuni delitti a andare via a Montevarchi perché di notte qualcuno spesso e volentieri tenta di pugnalarlo e si autoesilia in Provenza questo libro che è il quarto della serie vede il ritorno di Bertuccio a Montevarchi perché c'è un caso diciamo piuttosto inquietante di rapimento di bambini e lui lo risolve e questo è quello che si può raccontare e questo è quello che si può raccontare ma si può dire anche qualcosa di più nel senso perché Magica Tempora appunto te lo stavo provando per chiedere perché Magica Tempora perché ci sono due personaggi veri perché io mischio sempre personaggi veri con i personaggi di fantasia i personaggi veri sono Tommaso Masini che era l'assistente di Leonardo da Vinci che lo fece volare con le ali dal Monte Ceceri e si ruppa una gamba e che è il Zoroastro da Peretola tenete conto che se andate all'aeroporto c'è un viale a Firenze che si chiama Viale Zoroastro da Peretola intitolato a Tommaso Masini e poi c'è il Mago Nepo di Galatrona una gloria delle nostre valli perché lui è stato medico alla corte di Lorenzo il Magnifico poi siccome gli attribuirono la fama di Mago fu inviso da Fiorentini gli toccò scappare e si rifugiò alla torre di Galatrona sopra il mercatale dove esercitava la medicina curava le ferite con le polveri simpatiche che erano delle polveri che aiutavano la cicatrizzazione delle ferite e altre cose che e la cosa che è molto interessante è che Nepo morì più o meno intorno alla fine del 400 però poi c'è Mago Nepo fino a quasi all'inizio del 700 il che significa che mise in campo il figliolo proprio perché gli era morto i nipoti e poi di nipote e nipote si andava avanti un paio di secoli un personaggio molto interessante senti Marco immagino che sia un pochino più complesso scrivere un libro storico perché ci sarà molto tempo che lo dedica alla ricerca ah dunque di solito un libro come questo richiede almeno a me poi c'è magari chi va più veloce a me mi richiede dai 4 ai 6 mesi di ricerche e poi tra l'altro si trova 100 e si utilizza 20 perché ovviamente non fai un saggio fai una storia contestualizzi ma molte cose che hai trovato le tralasci le scarti perché sono pedanti perché sono poco note quindi devi selezionare un po' le cose che al lettore possono essere più appetibili però ci vuole sempre una ricerca da 6 a 8 mesi diciamo 6 a 8 mesi per scrivere un libro ma per no no per fare la ricerca per fare la ricerca la scrittura la scrittura vuole altre 6 mesi quindi un anno e mezzo ma per farsi venire l'idea cioè l'idea da cosa ti scaturisce nel momento in cui decidi di continuare il filone in questo caso di Tempola ma io ora non c'è una regola generale ti posso dire che per quanto riguarda Magica Tempola mia moglie siamo soci dell'associazione Amici della Val d'Ambra perché siamo piccoli produttori d'olio quindi siamo associati ci invitarono 3 anni fa a una conferenza che tenne il professor Sinatti alla Pieve di Galatrona perché c'è una chiesa dove c'è un bellissimo tempietto robbiano sotto alla torre e parlò di questo Mago Nepo che ne avevo sentito parlare ma mi ero completamente immediato la cosa mi interessò ho presi appunti poi ho fatto le mie ricerche su internet ho trovato delle fonti interessanti perché ci sono delle novelle scritte da scrittori minori del Cinquecento su questo Nepo e la cosa disse ma perché non farlo incontrare con Bertuccio quando Bertuccio ritorna dalla Provenza a Montevarchi e l'ho fatto incontrare perché così doveva essere perché così mi è piaciuto senti per te che d'altronde sei tu l'autore ma c'è più difficoltà ne scrivere un giallo storico rispetto a un giallo ambientato ai nostri giorni oppure non senti questa fatica in più allora a volte la cosa fila molto liscia mi diverto tanto a volte come ora perché sto scrivendo il quarto della serie del ventennio fascista ma ovviamente l'ho portata al 1948 qualche problemino qualche problemino ce l'ho perché è ambientata anche parzialmente diciamo tre o quattro capitoli a vagli di sotto dove fu creato il lago dalla Sette Valdarno e fu sommerso il paese di fabbrica di Caregine e non c'è documentazione storica di quello che è effettivamente successo ho visto dei video muti sulle persone di fabbriche che trasportano tavoline o sedie ma non ho nulla quindi il problema è la contestualizzazione è oscura quindi dovrò inventare molto e questo mi pesa perché quando ho molta storia riesco a lavorare meglio tutto qui certo allora che dirvi io vi invito a cercare non solo questo ma anche la produzione più remota si possono leggere in maniera svincolata? Io cerco poi non so fino a che punto ci riesco ma cerco di rendere i romanzi autoconsistenti nel senso che sono convinto che se uno lo legge poi la storia è tranquilla nel senso se poi uno vuole sapere che faceva Vertuccio un anno prima non glielo dico perché sennò poi diventa una ripetizione inutile allora io vi invito a cercarli qui alla parola ci sono? non lo so se li ordina li ha in due o tre giorni senza problemi perfetto allora vi invito a cercare la produzione di Marco di Oscar Santoni e lo rivediamo ci rivediamo la prossima settimana senza altro grazie eccoci nell'angolo del salottino lungo salottino ormai l'avete preparato una volta che ci sediamo qui non ci rialziamo non ci rialziamo più stiamo stiamo comodi così a parlare con voi allora con me nel salottino Giacomo ciao Giacomo buonasera Fabio buonasera a tutti Emma ciao Emma ciao a tutti e in questo momento in rappresentanza della libreria ciao Beatrice ciao Beatrice ciao Fabio buonasera ovviamente dopo vedremo anche Samuele però in questo momento c'è Beatrice e voglio iniziare proprio da te Beatrice ti va? volentieri allora un'autrice tedesca Dora Helt tre amiche al lago c'è una cosa scritta in copertina la forza dell'amicizia il coraggio del perdono esatto allora è come appunto hai appena detto un romanzo sull'amicizia un'amicizia che lega da quattro ragazze dall'età proprio dell'infanzia si può dire dall'elementari due si conoscono da sempre sono nate lo stesso giorno figlie di amiche e quindi sono praticamente cresciute insieme le altre due si aggiungono alle prime durante gli anni della scuola diventano inseparabili e fanno tutto insieme c'è un luogo che le lega particolarmente un lago dove Marie una di queste ragazze ha una casa e dove sono solite passare le vacanze insieme in particolare un giorno dell'anno diventa un po' il prototipo del loro ritrovo in questo posto ovvero il giorno di Pentecoste anche quando crescendo si allontaneranno per forza di cose perché appunto la vita le porterà poi a prendere scelte e decisioni che gioco forza non le vedrà sempre nello stesso posto però questo diventa è un appuntamento fisso trovarsi appunto a Pentecoste e raccontarsi come sia solito fare tra amiche è un appuntamento che appunto dura per tantissimi anni fino a che praticamente dieci anni prima rispetto a quando si svolge l'azione per un fatto un litigio che verrà svelato soltanto alla fine e le ragazze si perdono e ciascuna farà una propria strada separata dalle altre però come dicevi appunto all'inizio l'amicizia sa andare oltre sa andare oltre le incomprensioni e grazie al perdono le ragazze ormai donne perché sono ormai sulla cinquantina sapranno appunto ritrovarsi e superare quegli ostacoli che le avevano allontanate questo in seguito anche alla volontà di una di loro che purtroppo muore e lascia come eredità non dico cosa però un'eredità anche morale oltre che a una invece anche patrimoniale il fatto che le tre amiche sappiano ritrovarsi sappiano ricostruire questo rapporto interrotto e poi vedete e poi vedete mi sembra giusto a chi lo consigli questo libro Allora prevalentemente a lettrici cioè a donne perché si ricrea proprio un'atmosfera che per noi donne è molto familiare cioè ritrovarsi fra amiche questi appuntamenti fissi il chiacchiericcio le confidenze però secondo me può piacere anche a un uomo soprattutto se l'uomo vuole sapere è curioso di sapere che cosa si dicono tre amiche quando si ritrovano qual è il mondo femminile al femminile si legge come quasi come un giallo cioè siamo proprio trascinati dalla voglia di andare a vedere cosa è successo perché appunto gli eventi ci vengono spiegati poi un po' alla volta e quindi veramente non ci si staccherebbe questo questi libri che ti piace leggere che si fanno leggere soprattutto e allora di Dora Helt Tre amiche al lago è edito da 360 il suo costo è di 18 euro in questo salottino Emma è il tuo momento Emma ha letto un libro di David Almond il ragazzo che notava con i Piragna si cioè già a me mi sperenta in effetti no dal titolo mi incuriosiva e l'ho letto è un libro molto carino indirizzato soprattutto a un pubblico di bambini e parla di questo Stanley chiamato Stanley libro che è un bambino orfano che vive con gli zii Annie e Ernie e appunto lo zio lavorava in questo canterre navale però questo canterre ha dovuto lui chiudere e a lui veniva questa idea bizzarra di aprire una specie di industria autonoma casalinga dove fabbricano pesce in scatola soprattutto sardine stan non vuole stare appunto dietro a questa fabbrica perché odia il pesce come dice lui e per il giorno del suo compleanno decide di andare a Luna Park e lì vedremo che inizialmente va in questo banco chiamato a che appa la papera dove conosce un personaggio molto simpatico llamado Dostoevsky che gli offre di lavorare per lui e successivamente conosce questo pancio Pirelli che appunto lavora in questa il suo lavoro è tuffarsi in questa vasca di piranha e appunto è molto divertente il fatto che questo bambino gracile inizia a fare questo lavoro e grazie appunto a questo personaggio riesce a senza paura buttarsi in questa vasca e anche soprattutto è molto bello il finale perché davanti agli zii che erano preoccupati non sapevano dove fosse lui riesce a buttarsi e questi piranha lo seguono e seguono tutti i suoi movimenti e lui non lo mangia il pubblico era comunque preoccupato perché un bambino così piccolo e da qui fa capire comunque che ci possono essere cambiamenti comunque anche lo zio che voleva continuare a fare il lavoro sempre lo stesso lavoro capisce che ci possono essere cambiamenti nella vita e la morale è più o meno questa e allora signori genitori se volete regalare un libro dato che insomma ci stiamo avvicinando a grandi passi alle feste di Natale questo di David Elmond potrebbe essere l'idea giusta per i vostri ragazzi anche perché parla proprio di un ragazzo il ragazzo che notava con i piranha è edito da Salani e il costo è di 14,90 euro Sandra Passerotti le ragazze di Barbiana ovvero la scuola alfminile di Don Milani è stato scritto tanto su Don Milani e sulla sua scuola questo è un libro che è uscito proprio da pochi giorni e affronta un aspetto di cui non è che non si era proprio parlato però era un po' passato sotto silenzio c'è la presenza femminile nella scuola di Barbiana le bambine erano pochissime a quei tempi non andavano a scuola le bambine quindi è interessante perché affronta proprio questo argomento mette a confronto la realtà di Barbiana con quella che era proprio la realtà scolastica del tempo cosa che fa anche Don Milani con i suoi allievi perché lui confrontava sempre il lavoro che loro facevano con il lavoro che veniva svolto nelle scuole statali qui l'autrice che non è una che ha conosciuto direttamente Barbiana ma ha sposato un allievo di Barbiana è andata a ricercare le bambine sfogliando cercando tracce di queste bambine che erano presenti a Barbiana con Don Milani ne ha trovate alcune e le ha intervistate nove donne che raccontano la propria esperienza di scuola a Barbiana e anche in questo ci fa capire quanto Don Milani fosse avanti come sistema pedagogico anche perché già la scolarizzazione che lui faceva era molto diversa da quella che veniva fatta normalmente e in più lui si occupava delle bambine che appunto a quei tempi nessuno si preoccupava della loro istruzione le bambine dovevano stare a casa a aiutare a imparare i lavori domestici quindi appunto è interessante perché di figure femminili chiaramente a Barbiana si sa che ne sono passate sono state fondamentali per la riuscita della scuola però si parlava di persone adulte insomma che aiutavano Don Milani nella quotidianità insomma del rapporto con questi bambini e invece appunto è interessante che di questa autrice di Pontassieve che si è messa con dedizione a studiare e a cercare queste persone a farsi raccontare la loro storia partendo appunto sia esperienze di San Donato a Calenzano dove era insomma dove era Cappellano Don Milani prima di andare a Barbiana per poi appunto arrivare a Barbiana e tu hai una presentazione mi dicevi? si si volevo approfitto per dire che martedì 17 dicembre l'autrice Sandra Passerotti sarà qui in libreria per parlarci del suo libro e allora per conoscerla per avere proprio da lei la sua visione del libro il suo racconto del libro basta basta venire venire martedì alle 17 alle 17 in Corso Mazzini Figli Nevaldarno la libreria La Parola per conoscere Sandra Passerotti e il suo Le ragazze di Barbiana la scuola femminile di Don Milani è edito da libreria editrice fiorentina e il suo costo è di 12 euro a questo punto io ringrazio ringrazio Samuele e Beatrice ringrazio Emma ringrazio Giacomo finisce qui il salottino finisce quasi la puntata però prima della fine della puntata venite un attimo di là con me che vi faccio il solito riepilogo dei libri che vi abbiamo presentato eccoli qui i libri di questa puntata ve li ricordo ho iniziato io con il libro di Emanuela Carniti Alda Merini mia madre edito da Manni il suo costo è di 16 euro poi Beatrice ci ha raccontato il libro di Dora Helt tre amiche al lago edito da 360 il suo costo è di 18 euro Emma invece ci ha raccontato il ragazzo che notava con il piranha di David Almond edito da Salani editori e il suo costo è di 14 euro e 90 e per finire Samuele ci ha raccontato il nuovo libro di Sandra Passerotti Le ragazze di Barbiana la scuola al femminile di Don Milani edito da libreria editrice Fiorentina il suo costo è di 12 euro eccoli qui stanno tutti sul palmo di una mano ma voi sapete benissimo che il catalogo della libreria La Parola è molto più ampio io vi invito fortemente a venire a Figline Valdarno in Corso Mazzini e entrare da quella porta perché vi si apre un mondo un mondo fatto di libri un mondo fatto di autori entrando ci sono le novità le ultime novità le ultime uscite ai lati cioè la saggistica è sempre verde proseguendo troviamo un'ampia zona dedicato alla letteratura a tematica religiosa e poi qui nella zona dove noi registriamo dove troviamo tutti i libri per i nostri ragazzi da tutta la libreria a tematica giovanile per i ragazzi cosa succede se però voi avete in mente un libro e in quel momento che venite non lo trovate non dovete preoccuparvi perché lo potete ordinare tre o quattro giorni di tempo a seconda delle case editrici e degli autori il libro arriva ve lo ritirate ve lo leggete poi tranquillamente a casa vostra nella vostra poltrona nel vostro divano a letto prima di addormentarvi dove più vi piace perché leggere fa bene leggere rilassa leggere apre la mente in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini Figline Valdarno Grazie a tutti